Due ore di intenso lavoro, quelle passate nella tarda mattinata di oggi dai vigili del fuoco a causa dell'impetuoso vento di bora che ha spazzato la fascia costiera con raffiche di vento di oltre 20 km orari e mare forza 7. Interventi diffusi per diversi rami caduti in strada e che ostacolavano la circolazione, oltre a diverse grondaie in alcuni palazzi della zona mare che per le forti raffiche di vento si sono staccate pericolosamente dai loro supporti e che potevano essere potenzialmente pericolose per i passanti, tutto questo nel pesarese, una serie di piccoli interventi, nessuno di grossa rilevanza ma molto numerosi e sparsi per tutto il territorio. Al distaccamento di Fano è toccata la stessa sorte con interventi che sono andati dal centro storico fino a Marotta. I vigili del fuoco di Fano per coprire più rapidamente il territorio si sono divisi in due squadre per rimuovere i rami o le piante che ostruivano la carreggiata come in via Modigliani o nella zona industriale di Bellocchi. Intervento anche nel quartiere del Poderino per un grosso ramo caduto nei prassi della scuola Nuti. A Torrette di Fano invece il vento ha causato la caduta di un lampione dell'illuminazione pubblica in via Amiraglio Cappellini dove per la vicinanza con la linea ferroviaria. È stato necessario l'intervento anche dei carabinieri e di una squadra dell'Enel. Grossi rami a terra ed una quercia secolare anche sulla strada che da Centinarola porta a Monte Giove. Infine a Finile in via del Colle un grosso ramo di un pioppo è caduto su di un'auto parcheggiata ma senza nessuno al suo interno quindi causando danni soltanto all'autovettura.